Finalmente è arrivata la pacchietta del caffè, ora la spacchietto con voi, ho solo tolto questa parte qui, spero non ci siano indirizzi Vabbè comunque se avete seguito le mie storie su Instagram non avete idea di quanto l'ho desiderata e di quanto l'ho aspettata Uuuuh che bella Non ci credo Mi ha dato delle capsule omaggio Guardate Allora vi faccio subito un caffè per provarlo con voi Ma guardate che carini Forse è meglio se accendo questa luce in modo che qualcosa si veda ecco infatti No, sei troppo felice Ora vado a cercare quanto viene questa Solo per capire come me l'hanno mandata perché secondo me C'era scritto che con la mia macchinetta del caffè mi davano 30 euro da spendere sull'anespresso E probabilmente sono quelli che mi hanno inviato, hanno scelto loro ma va benissimo Io ho comprato adesso le capsule della Starbucks che dovrebbero arrivare oggi C'è l'ordine che stamattina arrivano oggi Amazon è troppo avanti La tiro fuori Cioè no vabbè quanto ti ho desiderata Tu non lo sai È bellissima È minimal come piace a me No ragazzi Ve la devo far vedere Vi metto vicino a voi Mamma mia Ma vi rendete conto È stupenda Cioè Veramente bella Ora Non so se vedete laggiù La macchina del caffè che c'è Guardate è un transatlantico Ora la tolgo E metto questa Vi farò vedere la differenza Questa macchinetta è da tanto che la volevo Perché è proprio piccola e bianca Come piace a me Non si vede che mi piace il bianco Vero? Non si vede E quindi io l'avevo già notata da tanto su Amazon E su Amazon la pagavo sempre di più Tipo 99 Boh Sono andata da 1 euro E da 1 euro costava di nuovo 99 Mi sembra strano Cioè ci sono dei posti che mi hanno detto che costa di meno Sono andata sul sito di 1 euro E sul sito costava 69 Più 5 euro di sconto E quindi ho detto Scusami ma la prendo sul sito Cioè cosa mi cambia? Non mi va mai bene niente subito Già avevo pensato che si fossero dimenticati un pezzo E il che era vero Cioè questo non lo vedevo ma era qua E dicevo ma come mai Non è possibile che sia così perché scivola Invece no Bisognava mettere questo così E questo così E poi lo metti così E quindi sta fermo Ce l'ho fatta Meglio tardi che mai Grazie Per avermi accompagnato In quest'anno Perché comunque Ti ho ricevuta Novembre 2020 Insomma abbiamo passato Dieci mesi insieme Grazie mille Non ti dimenticherò mai Anche perché ti metto Nel giardino C'è nel deor sotto Non è che ti abbandono Solo sotto Di modo che quando vengono Gli amici che facciamo le grigliate Tu ci sei Mi serviti Mi serviti Non piangere Non piace Non scende Tranquilla E più l'acqua Ecco qua Che dire Follettini Follettine Che momento Magico Che sto vivendo Cioè Gli sto facendo Praticamente una pubblicità L'hanno espresso Vabbè Uh Ne è caduta una Allora io scelgo Questo qua Bello bianco Vogliamo giusto Oh mio dio Non ci credo Non ci sto credendo Mi prendo caffè Mi ha dato pure Buono di 30 euro Ma vi rendete conto? Ah ce n'è uno che No raga C'è uno che si chiama Stoccolma E uno che si chiama Tokyo Non ci posso credere Ne spesso ci devi dire qualcosa Collaborerai con la casa di carta Buono E' particolare Nel senso qua Secondo me ti danno questa cosa qui Così se qualcosa ti piace Poi te lo ricompri Questo è un po' particolare Non penso E' buono Ma non penso che lo comprerei Vabbè Ne ho da provare qua Quanti tipi sono? 2 4 6 8 10 12 14 tipi di caffè diversi Sì ma alla fine Mi piacerà Napoli Vedrai So già Questo qua Ispirazione Napoli Mi piacerà quello Perché solo quello bevo io Bene ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Grazie per avermi tenuto compagnia Non era Uno sponsor Semplicemente ero felice Volevo farvelo vedere E niente Ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Qui ci vediamo nel prossimo video